Un'altra questione portata all'attenzione del Consiglio ieri da parte vostra è stato il discorso del cecchie, quindi scuole che possono aprirsi ma che non si aprono a Fano. Qui c'è un disegno preciso del PD provinciale e in pratica anche e soprattutto del Presidente della provincia e del Sindaco di Pesaro che tende a svilire e a far inglobare la città di Fano che è la terza città delle Marche all'interno di Pesaro perché hanno localizzato l'ospedale a Muraglia grazie al Presidente della provincia e al Sindaco di Pesaro che non è baricentrico tra Fano e Pesaro. Hanno tolto la direzione scolastica al Battisti, sempre grazie alla provincia e al Sindaco di Pesaro. L'Agrario non è venuto a Fano perché il Sindaco di Pesaro non voleva. Allora ai nostri amministratori locali, al Sindaco e alla maggioranza abbiamo chiesto vogliamo cominciare a alzare la testa e a diffidare queste persone perché c'è evidentemente un piano che tende a svilire la nostra città. Ieri invece il Sindaco, incredibilmente, la maggioranza hanno votato contro e quindi hanno detto anzi giustificato il Presidente della provincia e questo suo atteggiamento contrario a Fano l'hanno giustificato. Allora un'altra questione venuta alla ribalta ultimamente è i punti nascita. Sembra che una volta che l'ospedale unico verrà realizzato, nato a Fano sulle cari d'identità non ci sarà più. Non nasceremo più fanesi ma pesaresi. Questa è l'ennesima prova della sudditanza del PD locale e dell'amministrazione nei confronti del PD pesarese tant'è che proprio oggi il Presidente Ceriscioli ha dichiarato che il punto nascita sarà nel nuovo ospedale. Quindi nasceremo fanesi fino alla costruzione del nuovo nosocomio e da quel giorno in poi saremo tutti ufficialmente pesaresi. L'ennesima prova che stanno svendendo la nostra città. Farete azioni per cercare di contrastare questa deriva? Faremo di tutto per imporre il diritto ai fanesi di nascere a Fano ma soprattutto di mantenere la nostra città degna del suo nome ovvero la terza città delle Marche visto che ci hanno tolto tutto e la stanno smantellando completamente.